Devi costruire le giuste skill, dedicare una giornata a guardare la realtà anche da fuori e confrontarsi con altri è utilissimo. Non può essere fatto se io ho 500 persone in linea di produzione, non posso bloccarle tutte 500 e buttarle in aula per due giorni. Guardo, l'impatto economico di questa roba è devastante. Quindi preparatevi in un mondo in cui la formazione, vi do un trend anche dalla Cina di cui abbiamo parlato altre volte, la formazione è sempre più spezzettata, non per tutti, intendo dire per determinati ruoli. Spezzettata vuol dire che si fa 10 minuti, mezz'ora, un'ora, rifaccio dopo un giorno, è difficile che le aziende possano permettersi. Oggi blocco tutta l'azienda. Comunque per dire che c'è un'innovazione dietro, queste cose vanno costruite, non è solo bello dirsi servono le human skill, ma uno, il messaggio è usiamole per promuovere le persone e dall'altra parte, nel senso da sviluppare un sistema innovativo per istruirle. Non aspettiamoci di istruirle come abbiamo fatto fino a un anno e mezzo fa.